Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della TuttoTech Oggi, finalmente, dopo un po' di tempo che ce l'avevano chiesto, parecchi di voi ce l'avevano chiesto Dicevano, eh ma che bello, sì, Amazon Alexa bellissimo, però ragazzi, c'è anche la controparte E quindi io e mio fratello, piano piano, piano piano, mi ha messo da parte qualcosina E siamo riusciti a prendere Il Bugle Home Mini Telki Eccolo qua Anche noi entriamo nella cerchia di Google adesso Quindi adesso faremo questo unboxing, dopodiché faremo l'installazione e lo vedremo insieme Ma prima di questo vi ricordiamo di iscrivervi al canale, cosa molto importante perché grazie a voi che ci sostenete riusciamo ad andare avanti E ad attivare la campanella in modo tale da ricevere tutte le notifiche quando cariceremo nuovi video Ma prima di partire, beccatevi la nostra sigla! Oh! Don't touch me! Procediamo con l'unboxing apriamo la pellicolina il prodotto lo abbiamo acquistato da media world online ad un prezzo di 29 euro e 90 ritirato proprio stasera quindi bello fresco fresco andiamo ad aprire la confezione se riesca eccolo qua c'era il barbatrucco apriamo o eccolo qui esteticamente si presenta bene solito gommino sotto antiscivolo questo è il tasto per poter inserire il disattivare il microfono riattivarlo cavo di alimentazione dopodiché dovrebbe esserci ai lati la possibilità con due tasti fisici di poter alzare abbassare il volume continuiamo vediamo cosa c'è qui sotto iniziamo solito manuale di istruzioni e poi l'alimentatore micro usb eccolo qua quindi abbiamo tutto l'occorrente per poter accendere la scatola adesso è vuota via via per prima cosa abbiamo collegato l'alimentazione alla rete elettrica e adesso andiamo ad inserire il micro usb all'interno della sua sede vediamo un po cosa succede si sono accesi tre led bianchi 4 4 4 3 non so dove lo abbia visti sarà la stanchezza post lavoro noi continuiamo a fare i video in settimana quando abbiamo tempo quindi ecco qua i colori di google i colori di google ti diamo il benvenuto in google online per iniziare scarica l'app google home sul telefono o tablet quindi ci consiglia di scaricare l'applicazione direttamente sul cellulare quindi tra un po ci trasferiremo sul cellulare e vi faremo vedere come poter configurare il nostro google home mini direttamente con il tento stai attivando qualcosa ecco qui il famoso volume touch quindi vi basterà sfiorare il bordo il bordo e così potete abbassare e alzare il volume ecco spiegata l'ultima parte diciamo di google home mini perfetto passiamo sull'applicazione il prodotto andrà abbinato il google home mini andrà abbinato con un telefono della apple quindi un iphone così almeno vediamo anche come si comporta con la concorrenza andiamo a cercare la app google home ed è questa qui con la casetta eccoci siamo nella app l'ho aperta direttamente ci ha chiesto di attivare il bluetooth per trovare dispositivi nelle vicinanze gli ho detto di sì e ci dà il benvenuto a casa controlla i tuoi contenuti e dispositivi da un'unica posizione e dovrebbe essere guidato come quello del suo concorrente di amazon facciamo comunque in basso a destra il tasto inizia ci chiederà di scegliere un account al quale legare il dispositivo io sceglierò il mio account e ci vediamo dopo ci ha fatto scegliere l'account al quale abbinare il dispositivo adesso ci dice crea una casa configuro un dispositivo assegni i tuoi dispositivi alle stanze per controllarli tutti nello stesso posto inizia quindi clicchiamo su inizia qui clicchiamo su configura nuovi dispositivi clicchiamo su crea un'altra casa e poi in basso avanti qui ci chiede di dare un nome così un nickname alla nostra casa inventatene uno e poi andiamo avanti una volta inserito il nome il nickname di casa vostra ricordatevi poi di cliccare sotto sull'indirizzo di casa perché sennò non potrà darvi delle specifiche tipo del meteo come localizzazione clicchiamo quindi su indirizzo di casa qui inserite l'indirizzo di casa vostra e dopo di che andiamo avanti ci vediamo dopo ho inserito l'indirizzo di casa nostra di casa mia io ho dato avanti e adesso ci dice vuoi consentire a google home di accedere alla tua posizione io gli dirò che voglio che mi localizzi quando utilizzo l'app sta facendo una ricerca dei dispositivi ci sono usciti due due dispositivi da questa ricerca clicchiamo sul primo facciamo avanti connessione a google home mini hai sentito il suono ci chiede la conferma e noi diciamo sì contribuisce a migliorare google home qui ci dice se vogliamo contribuire a migliorare l'esperienza di tutti condividendo google rapporti eccetera eccetera io per adesso dico no grazie non ti fidi di google eh ma diciamo che ci vado un po coi piedi di piombo ma continuiamo bando alle ciancue io questo lo metterò in camera matrimoniale per la felicità di mia moglie che se io già ci vado coi piedi di piombo mia moglie proprio mi cementa i piedi e mi butta in mare perché lei odia questi dispositivi ci convive vabbè continuiamo camera matrimoniale avanti ok ci chiede di collegarci alla rete wifi come potete notare non so se lo notate perché ho pixelato la zona ma seleziona in automatico la vostra rete perché tramite il cellulare se quest'ultimo è collegato alla rete di casa vi va a leggere quella che è la rete presente e quindi ve la selezione in automatico dovrete solamente inserire la password quindi ci rivediamo dopo aver fatto questa procedura abbiamo inserito la password diamo collega e adesso aspettiamo che succeda qualcosa è comparsa la scritta connesso quindi vuol dire che il nostro assistente vocale è stato configurato con successo leggiamo un po' cosa dice il dispositivo google on mini è basato su tutta la tecnologia dell'assistente google chiedegli tutto quello che vuoi bla 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 facciamo avanti è meglio allora ci dice di attivare questa funzione per rendere più completa la nostra interattività con il nostro dispositivo vocale quindi se volete dopo esservi letti tutta l'informativa fate attiva in poche parole vi faccio una sintesi autorizzate l'applicazione a rilevare i vostri contatti a darvi informazioni sulla batteria del prodotto se per caso c'è qualche calo di tensione il calendario eccetera eccetera quindi io penso che sia una cosa utile e faccio attiva a questo punto ci dice se vuoi puoi configurare non una sola voce poi vedrò se anche mia moglie sarà d'accordo lo farà anche lei perché può riconoscere più voci ma in questo momento gli insegno a riconoscere la mia voce quindi clicchiamo su accetta allora dopo esservi letti sono i termini di utilizzo cliccate in basso a destra accetto google naturalmente vuole accedere al nostro microfono gli diamo ok fammi sentire la mia playlist per l'allenamento proviamo ok google fammi sentire la mia playlist per l'allenamento ok google dove si trova l'ufficio postale più vicino hey google ricordami di comprare i fiori hey google a che ora sorge il sole fate queste quattro prove vi dice che è andato tutto bene e cliccate in basso continua sta configurando la voce sta acquisendo evidentemente determinate nozioni della nostra voce per poterci riconoscere ci dice che abbiamo configurato con successo la nostra voce e a questo punto possiamo attivare possiamo attivare i risultati personali per usare la voce anche per accedere al calendario ai contatti e promemoria eccetera eccetera proviamo anche questo clicchiamo vedi altro accettiamo le condizioni qui ci dice fate una prova provate a sentire quale vi piace di più come voce dell'assistente sentiamo un po' la prima ciao sono il tuo assistente google e sono qui per aiutarti durante la giornata ciao sono il tuo assistente google e sono qui per aiutarti durante la giornata vabbè per par condicio e per vedere se riesco a tra virgolette infinocchiarmi un po' mia moglie seleziono il primo allora qui ci dice di selezionare un servizio musicale predefinito io seleziono youtube music quindi ci cliccate sopra viene fuori il flag e poi avanti in basso a destra chiederà se volete anche dei servizi video io poi li configuro ora con calma tanto è la stessa cosa cliccherete su netflix o in infinity sicuramente chiederà l'account e la password farà il collegamento e avrete la possibilità poi di comandare anche questo io per adesso dico non ora quindi clicco non ora in basso a sinistra una volta finita la configurazione vi porta nella home direttamente del dispositivo finita la configurazione come avete visto è molto semplice perché comunque facendo già un piccolo termine di paragone con Alexa vi spiega tutto quello che dovete fare dovete avere un account google ma la stessa cosa dovete avere un account amazon semplicissimo seguite tutte le indicazioni avanti inserite i dati che vi chiede e la configurazione avviene in maniera molto semplice adesso facciamo una domanda al nostro assistente vocale vediamo un po' come si comporta ehi google sei amico di Alexa? Alexa ha una voce molto rilassante cosa vuoi sapere? diciamo che se la cava con queste risposte un po' vaghe svia un po' insomma un po' un bel letto un bel paracule eh bravo bravo come dicevo prima ho messo la voce maschile così almeno mia moglie magari si convince si convince e si converte no vabbè comunque un pochettino li usa ma già ha detto di no in camera da letto testimoni proprio adesso un secondo fa però chi porta i pantaloni in casa sono io e quindi lo metterò in sala però devo metterlo per forza di là perché così almeno faremo qualche test io direi Marco cosa ne pensi di questo prodottino? la configurazione sono entrambe semplici google e Alexa però è stato molto molto veloce questa qui di google col fatto no benissimo benissimo no poi abbiamo voluto configurarla sul mio cellulare io ho un iphone per vedere se magari c'era qualche problemino con la apple ma assolutamente è andato proprio tutto liscio come l'olio vedremo poi con i prodotti compatibili ce ne saranno di occasioni per certo studiare le differenze anche tra apple e android in relazione al google home come abbiamo promesso appunto a parecchi utenti adesso rifaremo un bel po' di video per quanto riguarda i collegamenti tra il dispositivo vocale google e quelli che possono essere le prese smart il broad link tutta una serie di accessori che vi abbiamo già presentato collegati con Alexa non diciamo troppo non diciamo troppo ricordatevi di lasciare un bel mi piace soprattutto iscrivetevi al canale sosteneteci e date un'occhiata qui sotto cosa c'è qui sotto troverete i link che vi riportano ad amazon dei prodotti che abbiamo testato e di cui trovate tutti i video nel nostro canale direi che è tutto al prossimo video ciao ragazzi ciao ciao ciao